ben trovati amici del web oggi torniamo a parlare di longevità e in particolare di un argomento in merito al quale ricevo spesso molte sollecitazioni cioè le cosiddette zone blu e i loro presunti segreti della longevità in particolare dal punto di vista del tipo di alimentazione innanzitutto però come sempre quando parliamo di longevità si rende necessaria una premessa fondamentale cioè distinguere tra la semplice durata della vita e la qualità della vita stessa voi sapete che in italia giornali e telegiornali si rallegrano puntualmente delle nostre statistiche sulla speranza di vita alla nascita in effetti ancora l'ultimo rapporto istat relativo al 2022 a fronte di una media europea di 80,1 anni indicava per l'italia una speranza di vita di 82 anni e mezzo cioè viviamo in media due anni abbondanti in più rispetto alla media europea e questo ci colloca tra i paesi più longevi al mondo in europa ci superano solo la svezia con 83,1 anni e la spagna con 83,3 e se questo dato medio riguarda uomini e donne insieme alle donne le cose vanno ancora meglio perché arrivano addirittura una media di 84,7 anni laddove gli uomini sono fermi a 80,3 che comunque è sempre al di sopra della media per cui se per longevità intendiamo la sola durata della vita effettivamente come nazione siamo più longevi questi dati sulla speranza di vita però non tengono conto di un altro indicatore ben più rilevante sul piano pratico ma quasi mai riportato nei servizi al telegiornale che riguarda la speranza di vita in salute cioè quanti anni ci si può aspettare di vivere liberi da malattie che impattino sulla normale qualità della vita e questo indicatore purtroppo ci dà notizie molto meno entusiasmanti per quanto riguarda il nostro paese infatti sempre secondo i dati dell'ultimo rapporto istata ancora nel 2022 la nostra speranza di vita in salute era tristemente ferma a 60,1 anni e questa volta va peggio alle donne con una media di 59,1 anni in salute contro i 61,2 degli uomini questo significa che in media gli ultimi 19 anni della vita di un uomo italiano addirittura gli ultimi 26 anni della vita di una donna italiana sono anni in cui ci si trascina avanti affliti da problemi di salute non si muore certo ma anche dire che si vive è un po' un eufemismo più che vivere si sopravvive e vista così ci rendiamo facilmente conto che la nostra longevità è quasi più una condanna che una benedizione ci ammaliamo per primi ma poi viviamo di più sai che soddisfazione e infatti questa nostra longevità non è tanto merito del nostro stile di vita o della nostra dieta ogni tanto mi faccio una risata quando qualcuno dice che siamo più longevi grazie alla dieta mediterranea come se in italia la dieta mediterranea la seguisse qualcuno la dieta mediterranea non è la dieta degli italiani non lo è mai stata se non in qualche sperduto villaggio di pescatori nel sud italia negli anni 50 del secolo scorso la dieta degli italiani oggi è una normalissima western diet la dieta occidentale media ed è molto più simile alla dieta di un americano che a quella di un pescatore calabrese di 70 anni fa no al giorno d'oggi la longevità è dovuta più che altro ai progressi della scienza medica ai farmaci alle chirurgie eccetera e se l'italia riesce a tenere in vita i suoi abitanti un paio d'anni in più della media nonostante la salute l'abbiano già persa da almeno un paio di decenni e soprattutto grazie alla fortunata combinazione di un sistema sanitario gratuito e universale e la presenza che che se ne dica di molti centri di eccellenza medica soprattutto nell'ambito delle malattie cardiovascolari ma non è certo questa la longevità a cui aspiriamo se vogliamo parlare di vera longevità e non di mera sopravvivenza più che ai nostri fuorvianti indicatori nazionali dobbiamo cercare altrove e tra gli oggetti di studio che ultimamente appassionano molto gli esperti di longevità ci sono quelle zone del pianeta in cui si trovano percentuali nettamente al di sopra della media di ultra centenari che invecchiano in salute e sono appunto le cosiddette blue zones le zone blu quelle aree cioè in cui vivono molti degli individui più longevi del mondo che godono ancora di buona salute mentalmente lucidi autosufficienti e ancora in grado di svolgere molte delle attività a cui sono sempre stati abituati incluse quelle fisiche le più famose zone blu sono le isole okinawa in giappone la valle degli unza in pakistan e la comunità di loma linda in california ma ce ne sono moltissime altre e anche noi in italia abbiamo una famosa zona blu nell'ogliastra in sardegna si tratta di piccole comunità sparse nel mondo sufficientemente isolate o per fattori geografici o per fattori culturali che li portano ad adottare stili di vita e dei comportamenti alimentari che differiscono da quelli del resto del territorio in cui si trovano rispetto al quale generalmente subiscono molto meno l'influsso dello stile di vita occidentale in realtà l'isolamento geografico oggi conta molto meno di una volta e non a caso molte di queste popolazioni che un tempo erano tra le più longevi al mondo oggi purtroppo hanno in parte occidentalizzato il loro stile di vita e anche da loro la frequenza dei centenari è precipitata come è accaduto ad esempio agli unza che oggi si hanno ancora dei centenari ma non più così longevi e così numerosi come quando i primi ricercatori li studiarono più di mezzo secolo fa al di là di questo comunque che ci siano zone al mondo in cui c'è una concentrazione di centenari in salute nettamente superiore alla media è inequivocabile il problema è quando i vari esperti vanno lì a studiare queste popolazioni e pensano di aver trovato il loro segreto lì il discorso si va ben diverso tanto più che ognuno ci trova quello che vuole generalmente quello che ha già in mente di trovare qualcuno nota che hanno tutti una dieta per lo più vegetariana qualcuno nota che hanno tutti un consumo molto basso di calorie qualcuno nota che bevono tutti acqua pura con una certa proporzione di minerali qualcuno nota che fanno meno pasti nell'arco della giornata con un digiuno notturno più prolungato qualcuno nota che mangiano alimenti pochissimo processati qualcuno nota che semplicemente mangiano poco quindi restrizione calorica qualcun'altro nota che conta molto lo stile di vita che magari fanno attività fisica o che c'è poco stress che dormono un certo numero di ore che vivono in zone poco inquinate qualcun altro ancora dice semplicemente che hanno tutti dei geni particolarmente fortunati che condividono quindi in realtà noi non sappiamo che cos'è esattamente di tutte queste cose che fa la differenza il problemino di tutto questo discorso quello che in genere vi nascondono i presunti esperti che ritengono di aver scoperto il segreto della longevità studiando le zone blu è che una volta che si pensa di aver trovato la chiave che spiega questa loro longevità poi quasi invariabilmente gli stessi comportamenti si riscontrano anche in moltissime altre parti del mondo a cui però non corrisponde affatto questa speciale longevità e viceversa peggiorare ulteriormente le cose quando si pensa di aver trovato un pattern ricorrente di comportamenti alimentari in alcune di queste zone blu ci si imbatte invariabilmente in altre zone blu che fanno eccezione in cui cioè la popolazione segue comportamenti alimentari diversi se non diametralmente opposti eppure è molto longeva lo stesso qual è il problema di questo approccio è che è esattamente il contrario di quello che sarebbe il metodo di campionamento corretto per una indagine epidemiologica semplicemente andare a vedere cosa fanno queste persone a valore puramente aneddotico ma non ha alcuna rilevanza epidemiologica né statistica perché si studiano solo i casi senza avere i controlli perché andare da un ultracentenario a chiedergli quali sono i segreti della sua longevità non permette di confrontarlo con tutti quelli che sono morti prima e magari facevano esattamente le stesse cose ma non sono più qui per raccontarcelo anche perché poi il metodo scientifico ci chiederebbe di procedere al contrario che non dire ah in questa zona blu sono soprattutto vegetariani perché ci sono moltissime altre zone al mondo con la stessa concentrazione di vegetariani ma non la stessa concentrazione di longevi quindi per avere un dato scientificamente valido bisognerebbe perlomeno prendere fin dall'inizio una grande coorte di persone che fanno quelle cose vedere chi fa cosa e chi fa cos'altro seguirle per decenni e vedere quanto vivono e se chi vive di più ha fatto effettivamente qualcosa di diverso dagli altri se no non conta ha lo stesso significato del giornalista che vada allo scienziato dopo che ha vinto il premio nobel a chiedere ci dica quali sono i segreti per vincere un premio nobel e si sente rispondere delle banalità sull'impegno la perseveranza e la passione per la materia oppure andare dai festeggiati al cinquantesimo di matrimonio e chiedere quali sono i segreti perché una coppia vada d'accordo così a lungo e non ha nessun significato magari le stesse cose le fanno anche centinaia di altre coppie che hanno divorziato dopo sei mesi e lo stesso per le differenze genetiche perché certo che se prendete una popolazione che si è sviluppata con un sufficiente grado di isolamento e vi mettete a cercare nel loro dna alla fine qualche specificità genetica la trovate ma questo non provi in alcun modo che sia quella loro unicità genetica a determinare la loro longevità è plausibile che contribuisca soprattutto se riuscite a dimostrare che in effetti quei particolari geni possono conferire dei vantaggi in termini biochimici o metabolici ma comunque siete ancora molto lontani dal poter affermare che sia quella la chiave della loro longevità quindi la verità è che le spiegazioni possibili sono tantissime e ad oggi non sappiamo affatto indicarne una in particolare né dal punto di vista genetico né da quello ambientale prendiamo ad esempio il caso di okinawa dove ai tempi in cui si fecero le prime indagini serie tre abitanti su dieci erano ultra centenari e non solo ultra centenari ma ancora autosufficiente fisicamente attivi e mentalmente lucidissimi rispetto agli stati uniti l'incidenza di malattie cardiovascolari era ridotta dell'80 per cento e quella di tumori del 40 per cento avevano livelli più bassi di stress ossidativo di infiammazione e di colesterolemia e anche un'incidenza molto bassa di osteoporosi che cosa mangiavano beh la loro dieta era basata su quattro pilastri molta frutta e verdura fresche e locali quindi ovviamente di stagione molti derivati della soia un consumo quotidiano di alghe soprattutto kelp e anche molto pesce quasi il doppio della media dei giapponesi che già ne consumavano molto più degli americani in compenso rispetto al resto dei giapponesi a okinawa mangiavano meno riso e circa il 10 per cento in meno delle calorie totale quindi avevano anche una moderata restrizione calorica e come risultato obesità e sovrappeso erano completamente sconosciuti avevano anche bassissimi livelli di stress e un fortissimo tessuto di supporto sociale qual era dunque il loro segreto la restrizione calorica la soia le alghe il maggior consumo di pesce il minor consumo di riso lo stile di vita senza stress le relazioni sociali o forse nulla di tutto ciò ma semplicemente dei geni più fortunati probabilmente un po di tutto la verità è che nessuno di questi fattori era unico al mondo però ovviamente col bias di conferma ciascuno ci può leggere quello che vuole il vegetariano dirà visto non mangiavano carne se non avessero mangiato neanche pesce sarebbero stati ancora meglio il chetopalestra dirà per forza mangiavano meno riso se lo avessero abolito del tutto sarebbero stati ancora meglio eccetera inoltre anche ove mai determinati fattori ambientali venissero identificati sarebbero con ogni probabilità difficilmente riproducibili altrove come ad esempio la particolare composizione dell'acqua che sgorga dalle loro sorgenti o la purezza dell'aria che respirano o il contenuto minerale del suolo che si riflette nei prodotti agricoli del luogo ad esempio sempre a okinawa studia che ti studia gli scienziati identificarono tra le possibili ragioni della loro leggendaria salute e longevità un altro fattore ancora e cioè la particolare composizione minerale dell'acqua che bevevano dalla loro sorgente locale che si arricchisce di una particolare concentrazione di calcio e magnesio con un complessivo effetto fortemente alcalinizzante e questa era effettivamente l'unica caratteristica davvero specifica del luogo nel senso tanto pesce lo mangiavano anche molte altre popolazioni ma quell'acqua lì la bevevano solo loro ebbene dalla scienza subito al business ne scaturi un rovinoso commercio internazionale di calcio corallino prelevato direttamente da okinawa che stava portando alla irreversibile devastazione della barriera corallina locale per fortuna le autorità locali sono intervenute per tempo d'urgenza per regolarne la raccolta in modo sostenibile e tale da garantire la riproduzione dei coralli altre aziende per poter commercializzare un prodotto dai costi divenuti ormai proibitivi hanno poi tentato semplicemente di riprodurre la stessa composizione minerale del calcio corallino ma si tratta di un'impresa impossibile perché non è solo il contenuto il particolare rapporto ottimale tra calcio e magnesio di circa 2 a 1 che caratterizza quell'acqua ma anche la presenza di una settantina di altri minerali e componenti di cui la maggior parte in piccolissime quantità ciascuno dei quali per quanto ne sappiamo potrebbe essere determinante e questo solo per limitarsi ai componenti che sono stati identificati ma potrebbero esserci anche altre molecole che non abbiamo neppure identificato oppure il particolare contributo di batteri o altri microorganismi residenti. Insomma se anche fosse stato quello il loro elisir di lunga vita di certo non avremmo potuto far bere a tutti gli abitanti del pianeta l'acqua che sgorga a Okinawa. Ad ogni modo se non altro a tutto questo disastroso marketing almeno una cosa l'abbiamo imparata e cioè che il segreto di Okinawa non era quello visto che migliaia di persone al mondo hanno cominciato a consumare regolarmente il calcio corallino formando un campione epidemiologico sufficientemente ampio da poter essere studiato e avere un elevato potere statistico e il risultato di questi studi è stato che la loro longevità non è cambiata di mezza virgola. Quindi a me questa infatuazione per le zone blu appassiona veramente poco nel senso che che ci siano queste zone del mondo con alta concentrazione di ultracentenari è in dubbio ma che riusciremo mai a capire qual è il loro segreto la caratteristica che li accomuna li sono molto scettico perché poi alla fine qualunque conclusione se ne tragga la verità è che le stesse cose le fanno anche in migliaia di altri posti al mondo dove non hanno tutti quegli ultracentenari. E la spiegazione di questo secondo me non è tanto che non siamo ancora riusciti a identificare quale sia quel fattore magico che è la chiave di tutto bensì che tale fattore non esiste proprio per cui la mia sensazione è che molto difficilmente si riuscirà mai a identificare il vero segreto di queste zone blu per la semplice ragione che non ne esiste alcuno. Con ogni probabilità la maggiore durata della vita in certe zone del pianeta è il risultato di una fortunata combinazione di fattori genetici e fattori ambientali uniti a uno stile di vita sano sia dal punto di vista fisico che emotivo con un forte senso di appartenenza alla comunità, un buon livello di supporto sociale, ritmi di vita tranquilli, bassissimi livelli di stress e un particolare approccio filosofico positivo nell'affrontare gli eventi della vita. Un numero adeguato di ore di sonno, uno stile di vita molto attivo anche in età anziana e certo anche una dieta generalmente equilibrata e soprattutto moderata ma che si può tenere in molti modi diversi senza bisogno di specifici ingredienti magici o di particolari proporzioni fra i nutrienti o di speciali alchimie tra gli alimenti. E questo se da un lato è deludente dal punto di vista della ricerca del fattore magico della longevità dall'altro ci deve incoraggiare ad adottare tutti quelle sane abitudini, quei sani comportamenti e quei sani stili di vita che abbiamo appena elencato e che questi sì lo sappiamo benissimo ci aiutano a mantenerci in salute e a prevenire le malattie. Il merito più importante a mio avviso delle zone blu è la testimonianza evidente che ci danno del fatto che il corpo umano è costruito con le potenzialità di arrivare in buona salute fino a 120 anni questo è un po' il limite strutturale che sappiamo oggi poi non è escluso che in futuro riusciremo ad allungarlo grazie ai progressi della scienza e della tecnologia ma diciamo di suo senza intervento esterno l'organismo è progettato per arrivare a 120 anni e soprattutto per arrivarci senza doversi per forza ammalare di qualcosa questa è la lezione ancora più importante non sapete quelli che dicono beh per forza al giorno d'oggi sono in aumento di infarti ictus e tumori viviamo più a lungo e di qualcosa ci dobbiamo pure ammalare ebbene no non è affatto ineluttabile che vivendo più a lungo ci si debba per forza ammalare di qualcosa i centenari delle zone blu vivono tutta la loro vita in salute e poi muoiono semplicemente di vecchiaia dare per scontato che se si vive più a lungo ci si debba per forza ammalare di qualcosa o perlomeno rassegnarsi alla perdita di funzionalità è una perversione completa ci succede oggi per colpa dello stile di vita disastroso che abbiamo adottato ma il fatto che ci succeda non significa affatto che sia normale certo lo vediamo succedere all'ordine del giorno quindi finiamo per pensare che sia la normalità che invecchiando ci si debba rassegnare a patire un po di acciacchi e che se uno arriva 80 90 anni debba per forza cominciare a cadere un po a pezzi e invece non è affatto normale ecco gli abitanti delle zone blu ci dimostrano proprio questo fatto che vivere 100 anni non significa per forza avere le arterie intasate il cuore malandrato la pressione alta formazioni tumorali sarcopenia problemi di deambulazione parkinson alzheimer eccetera il nostro organismo può tranquillamente arrivare a 110 120 senza nessuna di queste cose e poi morire semplicemente di vecchiaia per cui al giorno d'oggi ci troviamo di fronte alla scelta di due modi diversi di invecchiare uno è quello caratteristico della nostra società occidentale contemporanea per cui grazie al sostegno dei farmaci e della chirurgia possiamo sperare di trascinarci fino ai 90 anni trascorrendo però gli ultimi venti tra declino fisico disturbi dolori malanni perdita di autosufficienza e di lucidità mentale a causa dello stile di vita dell'alimentazione malsana che abbiamo adottato l'altro è quello esemplificato dagli abitanti delle zone blu per cui possiamo sperare di arrivare oltre i 100 ancora in buona salute fisicamente attivi mentalmente lucidi e autosufficienti e la differenza la fa il nostro stile di vita fin da quando siamo giovani cosa mangiamo quanto mangiamo la qualità del sonno lo stile di vita attivo il tempo passato all'aria aperta e alla luce del sole la nostra capacità di gestire lo stress di interpretare gli eventi in modo positivo di vivere secondo ritmi e valori non alienanti di intessere relazioni sociali di qualità e tutte quelle cose di cui discutiamo sempre su questo canale e con questo signori io mi fermo per oggi www.spaziosfera.com questo è il sito dove potete inviare le vostre domande e trovare ulteriori contenuti siete i benvenuti anche sugli account ad spaziosfera su instagram ex e facebook e prima di lasciarci la cosa da ricordare è una sola vita quieta mente dieta e moderata dieta tutto chiaro veramente verifo verifo Grazie per la visione!